Dietro la porta. Molti anni fa visse un uomo di nome Salem. Salem faceva il servo in casa di un uomo anziano molto ricco. Il vecchio era buono con Salem, ma sembrava sempre molto, molto triste. Anche se la casa era molto grande, Salem era stato in tutte le stanze, tranne una camera che aveva una porta d'argento. Salem aveva lavorato in casa per più di vent'anni e quella porta era sempre stata chiusa a chiave. Un giorno Salem, incuriosito, chiese al vecchio per il quale lavorava «Scusate, signore, potete per favore dirmi cosa c'è dietro quella porta d'argento?» «Non posso dirtelo», rispose il vecchio. «Devi essere felice di quello che hai». Alcuni anni passarono e il vecchio morì lasciando la sua casa e tutti i suoi soldi a Salem. Salem era ormai un uomo molto ricco, ma non era felice. Voleva sapere quale segreto era nascosto dietro la porta d'argento. Così decise di rompere la serratura e aprire la porta. Dietro la porta c'era una caverna molto buia. Salem entrò nella grotta e dopo un po' vide un grande uccello molto brutto. Prima che potesse fare qualsiasi cosa, l'uccello lo afferrò e volarono fuori dalla grotta. L'uccello volò in cielo e sopra il mare per molte ore e poi adagiò Salem in un giardino meraviglioso in cui una bella donna lo stava aspettando. «Sei qui, amore mio», disse la donna. «Sono così felice di vederti. Qui tutto è mio. Resta con me e sarai un uomo felice». A Salem piacque subito quella donna ed era talmente frastornato da quel luogo straniero così bello dove l'uccello lo aveva lasciato che rispose «Io voglio stare qui con te». La donna accompagnò Salem a fare un giro del luogo. Il giardino aveva un sacco di alberi da frutto e centinaia di uccelli cantavano melodie incantevoli. Nelle vicinanze c'era il palazzo dove Salem sarebbe vissuto. Non aveva mai visto tanto lusso. Poi la donna gli fece notare una porta d'oro e disse a Salem «Puoi andare ovunque nel giardino o nel palazzo, ma non attraversare questa porta. Se si apre quella porta, sarai infelice per il resto della tua vita». Salem visse felicemente per tanti anni, ma ogni anno che passava diventava più curioso nei riguardi di quella porta d'oro. «Quando ho aperto la porta d'argento ho trovato questo posto incantevole», pensò. «Forse dietro la porta d'oro troverò un posto ancora più meraviglioso». Così un giorno Salem si mise davanti e aprì la porta. Tutto era buio e Salem entrò. Dopo un po' vide il grande uccello di nuovo. L'uccello lo afferrò con i suoi artigli e volò verso il cielo. Salem si chiese dove l'uccello lo avrebbe portato, ma ridiscesero semplicemente nella sua caverna e fece scendere Salem giù alla porta d'argento. Allora l'uccello decollò. Salem attese per molti giorni che l'uccello tornasse, ma non lo fece. Poi attraversò di nuovo la porta e si ritrovò nella sua vecchia casa. Si rese conto che il vecchio era passato attraverso la sua stessa esperienza. L'uccello non tornò mai più, né Salem ritornò al giardino. «Avrei dovuto essere felice di quello che avevo», capì. Fine.